Le prossime puntate di Endless Love promettono di tenerti incollato allo schermo con rivelazioni sconvolgenti e azioni imprevedibili. Asu spinge Tariq a orchestrare un piano oscuro per incastrare Gurkan, trasformandolo nel capro espiatorio perfetto. Ma non è tutto. Un indirizzo segreto cambia il corso degli eventi, e la tensione esplode quando Tariq prende in ostaggio Gurkan, anticipando Kemal e Nihan. Come si risolverà questa situazione al limite? Scopriamolo insieme. Kemal e Nihan credono che Gurkan sia solo in casa e non voglia farli entrare. Un momento romantico tra Kemal e Nihan è interrotto dall'arrivo della polizia. I due innamorati sono stati accusati di violazione di domicilio. Nihan, Kemal e Zehir riescono, tuttavia, a fare irruzione nell'appartamento di Gurkan, ma scoprono che qualcuno è riuscito a trovare l'uomo prima di loro. Tariq lo tiene in ostaggio, lo ha imbavagliato e portato in un bosco, ed è sul punto di sparargli. Ma Gurkan riesce a scappare, dopo aver colpito il suo rapitore con un bastone. Prima di continuare se vorresti ricevere in anteprima le nuove anticipazioni di Endless Love, scrivi sì nei commenti. Riprendiamo. Zehir scopre che Gurkan è gravemente malato. Zeynep si sfoga con sua madre e le dice che si sente paralizzata, per colpa dei sentimenti che prova per l'uomo sbagliato. Uno degli uomini di Emir riesce a rimediare l'indirizzo di Gurkan e riceve l'ordine di trovarlo. Nel frattempo, Leila comunica a Vildan che presto si sposerà con Ayan. Galip ha paura che Emir possa fare del male a sua sorella Asu per vendicarsi dell'incidente che ha causato a Nihan e decide quindi di metterla in guardia. Emir, con un astuto inganno, riesce a portare Asu e Tufan in una vecchia fabbrica di scarpe. Qui si trova una macchina con un impianto idraulico malfunzionante e freni rotti. Emir ha intenzione di costringere Asu a mettersi al volante per vendicarsi del tentato omicidio di Nihan. Tuttavia, l'incontro viene interrotto da Mujgan, che, accompagnata da Nihan, arriva sul posto per fermare Emir e persuadere Asu a consegnare al fratello tutti i documenti che potrebbero essere usati contro di lui. Emir racconta alla madre che Asu è la responsabile dell'incidente avuto da Nihan, la quale nel frattempo, sentendo tutto, esce allo scoperto e affronta i due fratelli. Appena le è possibile, avvisa Kemal, e lo mette al corrente del fatto che Asu ha cercato di ucciderla, Ayan e Kemal riescono a rintracciare Gurkan. Prendono l'uomo e lo portano al magazzino di Ayan, dove cercano di convincerlo a rivelare il nome della persona per cui lavora. Gurkan si ostina a non dire una parola. Non parla neanche sotto la minaccia di terribili torture. Asu rientra a casa in tutta tranquillità, ma Kemal le chiede il divorzio. Quando la donna scopre che in casa c'è anche Nihan, fra lei e i due innamorati scoppia una furibonda lite. Asu decide di consegnare a Emir tutte le prove contro di lui, ma in cambio, Gili chiede di recuperare Gurkan. Emir organizza quindi un raid per rapire l'uomo, che nel frattempo resiste stoicamente all'interrogatorio di Ayan. Del commando, per volere di Asu, fa parte anche Tarik, ma l'incursione si conclude con la fuga di Gurkan. Intanto, Asu annuncia a Kemal di voler accettare il divorzio, e Gili chiede di lasciare libero l'appartamento per consentirle di fare le valigie. L'indomani Kemal e Nihan avvistano Gurkan. Messo alle strette, l'uomo rivela chi ha commissionato il tentato omicidio di Nihan. Kemal e Nihan si precipitano sulle sue tracce, ma si ritrovano di fronte a uno scenario sconvolgente. La scoperta che Asu non è in casa e la presenza di una grande macchia di sangue nella sua camera lasciano Kemal e Nihan sconvolti. Dopo aver contattato le autorità, l'indagine prende il via immediatamente. Se vorresti il continuo della storia, scrivi sì nei commenti. Iscriviti al canale e lascia bel mi piace.